Io penso sia una vergogna che di fronte a tutti i problemi che hanno gli italiani e a cui la politica, il governo e il Parlamento dovrebbero dare delle risposte urgenti, la priorità unica per Berlusconi e per la sua maggioranza resta il provvedimento sulle intercettazioni. L'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto per la maggioranza saranno un inferno, l'incrocio tra l'approvazione della manovra, un decreto che scade il 30 luglio e la pretesa di voler fare a tutti i costi il provvedimento sulle intercettazioni ci spinge a una opposizione durissima e intransigente in cui useremo tutti gli strumenti parlamentari a disposizione ed è anche positivo che l'opinione pubblica, come avverrà con la manifestazione domani, faccia sentir la propria voce al di là, direi, delle distinzioni tra centrodestra e centrosinistra perché qui si tratta di difendere gli italiani che hanno diritto di non vedere approvate norme che impediranno il contrasto efficace alla criminalità.